La banca centrale cinese compra un po' di petrolio, si attendono i dati dell'occupazione che il mercato probabilmente potrebbe, brutti come usciranno, aver già scontato un pochettino. In Italia ci sono dei rimbalzi forti su Eni, perché sembra sempre che i cinesi siano risaliti oltre la soglia dell'1% del gruppo. C'è quindi una situazione nella quale alleggerimenti sui mercati finanziari vi sono stati, anche ieri piuttosto vistosi, peraltro altrettanto vistosi era stato il rimbalzo, sì, sono fissate delle nuove resistenze che andiamo a delineare prima fra tutti, l'area 2540-2550 per SP500 e l'area 9750-9800 per il DAX, sono piuttosto chiare. Già oggi un ritorno sopra 750 significherebbe tornare di poco al di sopra, ma in maniera anche quantomeno psicologicamente significativa sopra i massimi di ieri. Va detto che il mercato in area 9600 per il DAX, che è un prezzone molto molto lavorato, soprattutto perché cominciamo a essere una lateralità piuttosto chiara e netta da diversi giorni, sarebbe già una cosa buona e siccome siamo a 9570, non escludo che oggi il mercato voglia speculare su due tipi di argomenti tecnici. Uno, il fatto che c'erano stati ribilanciamenti di portafogli il 31, ieri i ribilanciamenti non ci sono stati più, non ce n'era più bisogno, il mercato ha preso dei profitti, oggi potrebbe ritrovare, dico potrebbe perché bisogna stare ancora molto molto cauti, una quadra. Di sicuro ci aiuta un po' la positività sull'Asia, che cerca anch'essa sul Nikkei di non perdere la strada di casa, questo mi sembra un po' la sensazione che gli indici stanno trasmettendo, cioè che non vogliono drammatizzare la situazione in eccesso, andando a cercare ove questi comunque eccessi di vendita arrivassero magari per dichiarazioni, come è successo ieri quando sono venuti fuori i contagi, i morti, le prospettive dei decessi in America, quindi chiaramente si è avuta una fase di panic selling di vendite piuttosto robusta, le bolsa hanno chiuso i minimi, ecco dove vi sono questi eccessi, dove vi sono questi giorni in cui si va a chiudere a meno 4 o meno 5 i mercati, probabilmente gli operatori vanno a prendere poi delle posizioni. Sottolineo quindi l'importanza di non perdere questi minimi, che sono 9.430, 2.615, 16.400, 2.476, 7.400 e 21.000 circa da DAX, Eurostox, Fulsimib, SP500, Nasdaq e Dow Jones, questi sono livelli assolutamente che non si possono perdere. In termini di pattern di inversione segnalo che a 21.4 il greggio ha invertito la tendenza degli ultimi 5 giorni e può essere simpatico andare proprio a vedere tutta questa serie di performance. A 9.600 si girerebbe il DAX, per quanto riguarda il trend ribassista, anche se poi guardando le performance laterali degli ultimi 5 giorni, e a 2530 girerebbe anche l'Eurostox. Oggi bisogna osservare con attenzione questi tipi di strumenti perché potrebbero darci delle sorprese significative da andare a controllare, perché l'Eurostox in questo momento sta a 2654, quindi ha girato bene secondo me. C'è un'inesattezza in ciò che ho detto, a 2530 l'Eurostox che è una forza relativa superiore al DAX, andrebbe a invertire il trend di rimbalzo che in questo caso è degli ultimi 6 mesi. Ci sono quindi tutta una serie di pattern interessanti a 16.260, che quindi, poiché in questo momento le quotazioni sono a 5.50, assumiamo come supporto, ci sarebbe un'inversione di nuovo giù, per quanto riguarda il nostro Fuzzimib, quindi secondo me stanno girando dei prezzi che potrebbero, qui però lo dico veramente con grande prudenza, cominciare a dare delle stabilità. C'è ancora un po' di pesantezza in America, siamo a 7556 sul Nasdaq, decorosissimo rispetto alla chiusura di ieri, siamo a più 1,57%, ma c'è la resistenza a 584, c'è ancora un po' da lavorare. Bella la risalita del petrolio, qui sicuramente c'è un accordo America-Cina di calmieramento, di calmierazione dei prezzi, qui molto interessante come si sta andando a girare, cambierà colore alla fine della chiusura il trading system delle posizioni in trading stop degli istituzionali, questo è un bel segnale. Non c'è ancora un forte sentiment, anche se si può notare un lieve accumulo e questo può deporre, al di là del fatto che siamo già a più 10-19%, ed è veramente molto, può deporre sul petrolio anche a una struttura più esplosiva di questo rimbalzo. C'è sicuramente da verificare in area 22,80, 23, una forte resistenza, ce n'è un'altra molto, molto forte, a metà di questo eventuale recupero, non so se verrà preso per oggi, in area 23,9 e successive estensioni 24,36, 24,60, 25, da qui magari alla fine della settimana, quindi comprendendo anche domani. Interessante anche, potrebbe deporre su Milano, un po' la flessione che stiamo osservando sul Bund, non particolarmente significativa, ma comunque cominciamo ad andare sotto la linea di 172,65, siamo a 172,12 in questo momento. Questo potrebbe aiutare il nostro spread, perché BTP invece sta apparendo con un dignitoso recupero, nulla di che, ma la tenuta di 141,30, che secondo me va tenuto, scusate il bisticcio di parole, come supporto per oggi, mi sembra interessante, qui c'è una figura, che potrebbe essere 1,2,3, e poi in fondo, una sorta quasi di piattino, di Kappenendal, che forse ci potrebbe anticipare che, poiché la fronda anti-olandese sta crescendo, alla fine, una quadra sulla decisioni di UE, per quanto riguarda il debito periferico, che coinvolgono ovviamente prima di tutto il nostro paese, potrebbero non essere così pessime, come il mercato, con ogni ragione, sta cercando di scontare. Su oro, anche in questo caso un piccolo recupero, 1.603, soprattutto 1.620, forti resistenze, grande attenzione sui cambi dell'Oien, qui ancora c'è un Oien relativamente robusto sul dollaro, neutro sull'euro, ma di certo non per la nostra valuta in chiave rialzista, siamo un po' anche qui, e qui si sconta politiche di tassi e politiche di bilancio espansive, abbastanza cauti anche su euro-dollaro. Sto osservando con attenzione USDCAD, perché USDCAD dovrebbe deporre a favore di petrolio, quindi in debolezza del dollaro, e quindi a favore di CAD. Attualmente questo non si sta verificando, mentre un po' di recupero lo continua a fare, è abbastanza tonica, secondo me è simpatica la divisa australiana, sul dollaro, e anche Nuova Zelanda, molto tartassata, si prende qualche rivincita, ma attenzione, Nuova Zelanda e Australia stanno recuperando sul dollaro, e questo a mio parere può direttamente o indirettamente collegarsi al petrolio, ritorniamo su USDCAD, quindi i movimenti a favore di CAD, strutturalmente guardando questo grafico, e a favore di Australia e di Nuova Zelanda, aiutano a capire che forse sul petrolio qualche cosa di interessante si può fare, e chissà che questo non dia beneficio anche sul coppio, sulle materie prime, e indirettamente, per correlazione, aiutare la stabilità delle borse. Lo vedremo durante la giornata. Buona seduta, buona...